bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video io sono kino e per tenervi compagnia anche alla domenica vi porterò l'ultima missione prima del boss finale di vallargota ovvero la missione che ci porterà in una location apparentemente nuova in cui dovremmo appunto difendere a quanto vedo cerca i server nel maniero presuppongo che dovremmo difendere se quattro server e come vedo due sono già qua dentro 3 ok saranno tutti dentro questa megavilla ok sì quindi cosa farò raga ho deciso che farò così la partita terrò la villa in piedi non difendo così non spreco materiali cioè non difendo quei materiali intendo magari qualche trappolina la mettiamo intanto cerchiamo tutti i server ecco anche di e niente terrò la struttura tutte in piedi e qua ci metterò le trappole una bella casa così ci nascono tutti qua sotto e non fanno neanche tempo arrivare alla villa vabbè qualcuno ci arriverà sicuro comunque la villa è strutturata con queste due salite da tutte e due le parti raga io vi consiglio se volete farla così pushata ci buttate due gas uno a questo lato uno dall'altro e magari con furia di frammenti giusto un paio di teddy un paio di elettrotorri fate la missione easy easy questa è missione a 70 ricordo raga ed è quella prima del boss finale di vallarguta non l'incarico proprio prima ma l'unica differente diciamo la pagina prima forse se non ricordo male il maniero di windermann ecco appunto l'altro lato raga completamente identico all'altro quindi ci buttiamo una due gas gli aculei di legno terra che servono solamente esclusivamente a rallentare anche se gli ho al 130 vabbè magari un po di vita gliela tolgono però il loro maggior utilizzo il principale diciamo è appunto per rallentare gli zombie non che qui mi serva però fa niente ne ho abbastanza da poterli sprecare così raga il mio migliore amico assolutamente lo devo mettere giù mi mancava ho fatto così tante serate con lui in discoteca al pub di joel minchia abbiamo tante di quelle esperienze io e il mio difensore col caschetto giallo ok raga la difesa è partita sono cinque minuti e mezzo gli zombie sono al 70 la villa è già costruita quindi server sono dentro già tutto difeso io io approfitterei di questo piccolo lasso di tempo per anticipare già tutti voi che state guardando questa clip che in settimana voglio fare ho in mente un bel progetto allora tutti voi chiunque abbia costruito delle opere d'arte nella propria base anche opere non d'arte ma che per voi lo sono ovviamente svolgerò un piccolo non contest appunto vorrei che voi mi mandasse una piccola clip della vostra creazione all'indirizzo kino tv official chiacciola gmail.com e in questa clip poi farò un video apposta dove spiegherò bene questa cosa vorrei appunto le vostre costruzioni più belle se potete giratele con la visuale in prima persona con tutti gli obiettivi tolti diciamo dalla mappa se volete lasciate il vostro nickname se volete apparire in un futuro video ovviamente questo lo lascio decidere a voi però tutte le altre cose se riuscite toglietele dallo schermo farò un video apposta in cui lo spiego in cui spiego questa idea e ho l'obiettivo di raggiungere molti giocatori della battaglia reale far vedere cosa sappiamo cosa sappiamo costruire noi su salva al mondo diciamo voglio lanciare questa piccola sfida comunque io adesso ve lo sto solo anticipando in settimana uscirà un video in cui parlo bene di questo di questa cosa in cui vi spiego bene come dovete mandarmi la clip assolutamente la clip meno di 30 secondi ragazzi perché tanto sarà un taglio sarà un insieme di clip che metterò tutte insieme 30 secondi magari la porto anche a 5 secondi però giusto per se io ho il 30 secondi di clip diciamo che posso prendere io la miglior parte che diciamo ho visto in quel video appunto niente farò un video in settimana in cui vi spiegherò meglio questa questa parte adesso la missione oramai è quasi finita 3 minuti di difesa ancora non è tanto difficile raga intanto quasi perso un server ma so già che anche se lo perdo non è un problema basta che ne rimane uno in vita quindi non abbiate paura di diciamo di quittarla non quittatela cioè anche se perdete un server easy continuatela tanto la ricompensa che ti da non è sto granché non ci tocca puntare alla ricompensa migliore diciamo e niente questo era tutto ok raga la missione è quasi finita mancano 30 secondi e vi ricordo che questa era l'ultima missione prima del boss di Vallarguta quindi so che molti di voi l'avranno già affrontata so che molti di voi sicuramente non guarderanno questa clip con interesse diciamo però magari tornerà utile a qualcuno può essere no raga qualcuno che deve ancora affrontare la missione e niente io vi ricordo lasciare un like se il video vi è piaciuto o anche solo per supportarmi raga comunque presto prestissimo ci saranno delle novità sul canale che già vi ho anticipato ma non solamente quello anzi innanzitutto dovremmo stabilire anche un giorno fisso per le live dovrei fare una barra due live una live fissa settimana sempre poi vedremo il video contest rimarrà sempre a lunedì quello è un must ah e a proposito del video contest se qualcuno dei vincitori del contest di lunedì sta guardando questo video sappia che io sto aspettando che voi mi contattiate per ritirare le armi non sta diventando cioè non è abbastanza semplice dare le armi a tutti i vincitori del contest perché far combaciare io raga sono disponibile tutti i pomeriggi tutte le sere non fino a tardi comunque sono disponibile cerchiamo di venirci incontro insomma trovarci per appunto io sono le regalo le armi quindi sti cazzi a me non mi dovete dare nulla cioè voi partecipate ai contest l'avete vinto e ritirate l'arma appunto qua intanto non mi fa quittare dalla missione mi fa aspettare un'eternità io per il video di oggi vi saluto raga spero che vi sia piaciuto come al solito attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se non lo siete ci vediamo domani con un nuovissimo video anzi domani è lunedì con un nuovissimo contest bella raga